Grazie Presidente, colleghi, credo che l'intervento si potrebbe riepilogare in una semplice manifestazione di gioia per il fatto di essere favorevoli all'intero emiciclo del Senato su un provvedimento così importante e così fondamentale. Lasciatemi però una piccola digressione politica. Noi la settimana scorsa abbiamo condiviso un documento che sostanzialmente diceva al Ministro e al Ministero e a tutto il cucuzzaro, come mi viene da dire, per capirci, quindi Istituto Superiore di Sanità, Consiglio Superiore di Sanità, AIFA e chi più ce ne ha più ce ne mette tranquillamente, di aggiornare un protocollo per le terapie domiciliari che era fermo al novembre dello scorso anno sulla vicenda Covid. E sostanzialmente io dissi che era assolutamente paradossale che l'Aula del Senato si doveva in qualche misura sostituire in una sorta di clonazione dell'attività che avrebbe dovuto esperire il Ministero, il Ministro come vertice della piramide e il Ministero nella sua interezza per aggiornare i protocolli ed aderire ad una realtà che è quella dell'emergenza pandemica che riempie tutti i giorni la vita quotidiana degli italiani. Oggi sostanzialmente noi ci troviamo a fare una cosa del tutto analoga, cioè oggi per iniziativa della collega Binetti ma complessivamente del dibattito che noi abbiamo svolto in Commissione, noi ci troviamo a dover sollecitare l'elaborazione di un piano nazionale dell'oncologia che è fermo dal 2016. Verosimilmente come è stato descritto nelle premesse questo piano sarà stato elaborato conoscendo i tempi almeno nei mesi precedenti se non negli anni precedenti quindi noi ci troviamo ad affrontare una realtà sulla materia oncologica dove quotidianamente intervengono, come ha detto perfettamente il rappresentante del governo dove quotidianamente intervengono progressi della comunità scientifica assolutamente fondamentali ci troviamo a dover operare e a sollecitare un piano che sta lì da 6-7 anni una roba veramente totalmente incomprensibile a tutto questo si aggiungono le gravi circostanze che hanno imposto di accantonare tutta l'azione di screening, tutta l'azione di trattamento e tutta l'azione di controllo cioè tutti i vari meccanismi di follow up dei malati oncologici abbiamo ad oggi sospeso oltre 2 milioni di prestazioni in follow up abbiamo sospeso un numero rilevantissimo di interventi chirurgici nel contrasto delle patologie oncologiche e soprattutto abbiamo sospeso gran parte dei modelli di screening che erano attivati sul territorio quindi di tutto questo noi oggi avvertiamo l'Aula complessivamente avverte la grande urgenza voglio anche manifestare riconoscenza all'unestà intellettuale non vedo altro termine alla sincerità del rappresentante del governo del collega Sileri con il quale evidentemente abbiamo messo a frutto il periodo importante di collaborazione che abbiamo svolto nella sua presidenza della commissione della sanità nel senso di dire che a forza di frequentarci è diventato più bravo insomma ecco e quindi in questa circostanza al di là della battuta in questa circostanza noi siamo ben felici di poter oggi essere gratificati da questo atteggiamento serio perché vorrei dire che davanti al politico cioè davanti alla gravità di queste circostanze e delle patologie raccontate in questo atto che tutti noi conosciamo chi è che non ha avuto nella propria famiglia che non ha forse probabilmente oggi nella propria cerchia di amici nella propria famiglia una vicenda che riguarda un malato oncologico ecco allora di fronte alla serietà di questi passaggi è assolutamente importante garantire che mettiamo da parte il politichese mettiamo da parte anche il gioco delle parti e semplicemente davanti a un tema così importante manifestiamo grande unità di intenti di questo io sono assolutamente prima di tutto disponibile perché noi come opposizione abbiamo consegnato alla collega Binetti queste importanti osservazioni che sono state accolte nell'atto ma soprattutto sono rasserenato da questo atteggiamento del sottosegretario Sileri che sono convinto sarà lui il primo a pretendere che ognuno faccia dentro quel palazzone ognuno faccia la propria parte e riguardo a questa ultima circostanza sono anche ben felice di aver indicato alla collega Binetti le vicende legate al registro tumori noi abbiamo approvato una legge già dal 2019 il registro è ancora sulla carta perché mancano i provvedimenti attuativi noi sappiamo che questo tema dei provvedimenti attuativi è un tema che incombe su ogni provvedimento che licenzia il Parlamento ci sono provvedimenti attuativi che ritardano da anni anche nell'emergenza sismica anche nell'emergenza pandemica quindi anche laddove esistano momenti di seria emergenza vera, acclarata, conclamata ciò nonostante i provvedimenti attuativi ritardano e non si capisce bene per quale motivo e quindi io suggerirei ai colleghi di cominciare a calendarizzare non dico fare una commissione d'inchiesta che magari sarebbe anche su alcuni temi sarebbe anche fondata ma cominciare a calendarizzare il termine per andare al riscontro sulla attuazione dei provvedimenti che vengono licenziati anche per valutarne l'efficacia rispetto appunto al fatto che evidentemente se i provvedimenti vengono licenziati c'è un'urgenza che li richiede ecco, da ultimo volevo significare caro collega Sileri che nel provvedimento che noi andiamo ad approvare ci sono passaggi assolutamente importanti ad esempio sulla necessità di aggiornamento del parco strumentale che attiene alle terapie oncologiche mi riferisco in particolare all'intero parco delle attrezzature per la radioterapia oncologica su questo tema, su questa materia ci sono stati anche dei provvedimenti legislativi che hanno peraltro circoscritto con dubbia logica costituzionale l'ammodernamento di queste apparecchiature solo al centro-sud o addirittura al sud se non ricordo male io ho fatto degli atti ho fatto delle interrogazioni io credo che sulle apparecchiature per la radioterapia oncologica posto anche il grande sviluppo della tecnologia in queste apparecchiature che comporta la minore invasività dei trattamenti la maggiore efficacia dei trattamenti e la maggiore precisione dei trattamenti su questo in particolare stando perfettamente dentro al quadro della asse 6 del PNRR cioè quello dell'ammodernamento delle tecnologie della telemedicina e dei trattamenti e della digitalizzazione su questo in particolare io, collega Sileri mi aspetto una particolare attenzione perché evidentemente qui c'è molto da fare noi abbiamo delle attrezzature per la radioterapia oncologica che a volte datano anche 20 anni dove addirittura sono scaduti i contratti di manutenzione e quindi noi abbiamo delle apparecchiature che probabilmente invece che curare complicano ulteriormente quantomeno gli effetti collaterali di una neoplasia che evidentemente già di per sé è un problema abbastanza serio che un paziente, un malato si porta a spasso per la sua esistenza quindi colleghi io sono da una parte contento e dall'altra basito del fatto che noi ci si debba operare che ci si debba adoperare e che noi si debba operare in sostituzione di un intero apparato che sembra evidentemente occuparsi d'altro e quindi speriamo che almeno quello di cui quello di altro di cui questo apparato si occupa ne potremo vedere i risultati posto che ad oggi quanto meno per l'emergenza Covid i risultati non solo non si vedono ma addirittura noi siamo accreditati di un palmarès presidente di record negativi che fa invidia evidentemente alla parte in ombra del mondo al dark side of the moon grazie grazie senatore grazie